Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. E in quanto tale ha il dovere di non nascondersi, né di nascondere alla città ciò che furbamente è stato messo sotto il tappeto durante il ballottaggio. Cosa dire? Qualcuno dovrebbe ricordare a Del Giudice che l'unica cosa che i demitiani come lui hanno cercato di nascondere durante queste elezioni è stata la vergogna dello scandalo. Aias, noi con loro. Aias, noi con loro.